Su segnalazione di una nostra telespettatrice vi mostriamo alcune foto che ci hanno inviato proprio oggi. Le foto mostrano lo stato dei bagni di ieri pomeriggio 28 ottobre del cimitero comunale di Marsala. Come vedete i bagni sono inutilizzabili, soprattutto ci scrive la signora, per una donna. La signora chiede attraverso la nostra tv che i bagni vengano tenuti puliti sempre anche dopo le festività ormai eminenti dell'1 e 2 novembre.